L'omicron è quasi prevalente in Sicilia, razza e costa, somiglia a un raffreddore, è molto meno aggressiva. I contagi sono triplicati nell'arco di tre settimane. Giuliana Miciche. La variante Omicron è ormai prevalente anche in Sicilia. A Palermo e provincia il 70% dei positivi al Covid presenta la variante sudafricana. Tuttavia il commissario per l'emergenza pandemica, Renato Costa, rassicura. È una buona notizia perché la nuova variante è molto più diffusiva delle precedenti, ma somiglia sempre di più a un raffreddore e come tale è meno virulenta ed è meno aggressiva dal punto di vista clinico. E così conferma l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, che riferisce. Sono oltre 50.000 i siciliani attualmente positivi e di questi meno di 1.000 ricoverati in strutture ospedaliere. Accanto ai positivi ci sono un numero ancora maggiore di persone che sono venuti con loro in contatto. Dovremmo essere in parte sollevati dalla circostanza che l'impatto della variante stia facendo emergere in modo significativo tanti casi che tuttavia presentano una clinicità di basso impatto. Ma sono consapevole che, come ovunque in Italia, la gestione medica di decine e decine di migliaia di persone si stia rilevando particolarmente onerosa. E in riferimento alle code interminabili e il del caos ai centri per il tampone, l'assessore Razza si scusa e spiega. Le nuove regole disposte dal Governo nazionale dovrebbero determinare un sollievo organizzativo nei prossimi giorni. Mi rendo conto che si siano accumulati ritardi nelle comunicazioni e qualche disservizio di troppo. Me ne scuso e posso confermare che il servizio drive-in per i tamponi è stato più che potenziato con l'apertura di nuovi centri in tutta la Sicilia, conclude. I contagi nell'isola raddoppiano nell'arco di due settimane. L'ufficio Statistica del Comune di Palermo ha comunicato che nella settimana scorsa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 27.814, il 136% in più rispetto alla settimana precedente e il triplo rispetto a due settimane fa. Adesso sono 4.384 i nuovi casi di Covid in Sicilia a fronte di 25.286 tamponi processati. Il tasso di positività è al 17%. La regione è all'ottavo posto per nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 55.380 con un aumento di 4.084 casi. I guariti sono 284. Le vittime sono state 16 per un totale dei decessi a 7.543. Negli ospedali ricoverati ordinari sono 918, 66 in più e quelli in terapia intensiva sono 112, 5 in più. Ecco la distribuzione dei nuovi contagiati tra le province. Palermo 888, Catania 1090, Messina 501, Siracusa 586, Trapani 462, Ragusa 312, Caltanissetta 275, Agrigento 262 ed Enna 8.